Vieni, 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 vieni! Parte così il rinnovamento verde di Unicopa a San Mignato, dove è stato inaugurato il nuovo punto vendita. 2000 metri quadri di struttura alimentata da pannelli fotovoltaici a conferma della direzione green intrapresa con l'addio alla plastica. Ripulire il mondo, abbiamo ripulito l'Elsa, liberi dai rifiuti, è uno slogan grosso. E quindi noi qui abbiamo preso in dotazione il fiume Elsa per ripulirlo. Si è trovato tonnellate di roba che noi si è fatto anche il progetto a Cifelago Pulito con i pescatori che anche lì si sono stati al Parlamento Europeo a portare una proposta di legge appunto perché la plastica che si pesca in mare venga non ripultata ma recuperata e riciclata. Un investimento che ha anche un valore sociale con la ricaduta occupazionale sul territorio grazie alle nuove assunzioni di personale effettuate da Unicopa. Sì, un presidio importante in un territorio come San Mignato. Abbiamo aumentato la forza lavoro di un 10% questo insomma in previsione di un risultato importante di questo punto di vendita.